in India in questo momento e l'arcivescovo di Bombay, Osvaldo Grazias, ha detto senza libertà religiosa l'India non potrà crescere. Fin qui però l'India è cresciuta a un ritmo estremamente accelerato e insomma l'immagine che Ben descrive questa sua condizione è quella di un intero paese che qualche settimana fa, era il 5 novembre, si è fermato quando è stato lanciato su Marte il missile mangaliano, una vera e propria scommessa sul futuro, però si fa pressa a dire India perché di India ce ne sono tante quanti sono almeno i suoi 28 stati e l'India è modernissima e insieme antica, ricca con la sua nuova elite politica economica ma anche poverissima e allora è venuto il momento di interrogarsi anche sui costi di questa crescita che sembra inarrestabile, su chi vince e su chi perde nell'India di oggi di cui ci parla il nostro collega Giorgio Schiavoni. Un paese di minoranze, i due terzi del miliardo e duecento milioni di indiani appartiene a una minoranza religiosa, linguistica, sociale o etnica, una segmentazione molto complessa che è la caratteristica più pregnante dell'identità indiana, basti dire che ci sono 18 lingue ufficiali regionali, non esiste una lingua nazionale, l'India infatti è la lingua ufficiale del governo ma è parlata da meno della metà degli indiani concentrati al nord e che in realtà per comunicare da una parte all'altra del paese si usa una lingua straniera, quella dei colonizzatori, l'inglese. La diversità in India insomma è la normalità, da qui i contrasti di un paese che è tutto e il contrario di tutto. L'ultima notizia proveniente dal subcontinente indiano ad aver attirato la curiosità dell'opinione pubblica internazionale è quella della missione spaziale diretta a Marte lanciata solo due settimane fa, un progetto che stride con il fatto che in quello stesso paese almeno un terzo della popolazione è povera e che un grasso dei poveri di tutto il mondo sono concentrati proprio in India. Il contrasto è solo in parte inspiegabile perché l'India, una fiorente ereditizia industria spaziale, la condizione di povertà di circa 400 milioni di persone e la sottonutrizione cronica di circa la metà degli indiani sono considerate in un certo senso naturali in un paese la cui storia è stata sempre caratterizzata da un'indigenza diffusa. Solo negli ultimi vent'anni infatti l'India ha cominciato ad affermarsi economicamente, uno sviluppo però che ha arricchito alcuni strati sociali molto più di altri. L'India è anche il paese che da quasi 40 anni all'arma tomica in cui si concentrano molti dei più folgoranti geni della matematica e dell'informatica a livello internazionale ma in cui gli analfabeti sono più di un quarto dell'intera popolazione. Un paese dove la vita umana spesso non ha nessun valore ma dove le mucche in quanto sacre vengono trattate con più rispetto di quello riservato a molti uomini. L'India ha generato Buddha ma il buddismo che ha plasmato l'area più popolosa del mondo, l'Asia orientale, è la religione di meno dell'1% degli indiani. E in India dove i cristiani sono presenti da tempo immemorabile secondo la tradizione dal 70 dopo Cristo con l'arrivo dell'apostolo Tommaso, le uccisioni e le violenze contro questi 30 milioni di fedeli sono sempre più frequenti e sanguinose. Tra i vari motivi di queste persecuzioni c'è sicuramente il fatto che il cristianesimo, sostenendo l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, mena alla base l'organizzazione sociale indiana. La divisione in caste ufficialmente abbandita dalla legge ma vigente nella vita di tutti i giorni e la conseguente inevitabile discriminazione che ne esegue sono le fondamenta della società indiana. Una democrazia che stenta a realizzare l'integrazione delle sue varie componenti e ad affermare la tolleranza e il rispetto della dignità umana come valori condivisi. E alludendo le tante difficoltà, le contraddizioni dell'India, una scrittrice indiana divenuta piuttosto radicale, Arunda Tiroi, una volta ha detto immaginate di trovarvi in una stanza con dieci persone, sette di queste persone stanno morendo di fame sotto i vostri occhi, una è ricca, due se la cavano. Avreste mai il coraggio di rassicurare i sette poveracci dicendo loro insomma non va così male, guarda gli altri tre. Ecco di sicuro